ciao vi parlo del chili lumer pedale effetto prodotto dalla chili parente stretto del dark side che abbiamo visto già qui nel canale con due recensioni come per il dark side nel lumer ci sono due possibili effetti da usare singolarmente o contemporaneamente sono un fuzz che è esattamente lo stesso che troviamo nel dark side quindi con le stesse impostazioni che poi vedremo mentre la parte dedicata alle modulazioni in questo caso è dedicata esclusivamente al mondo dei reverberi ci sono tre possibili soluzioni con un reverb focus un reverse e un hall tutti e tre estremamente interessanti con molte configurazioni che si possono fare vedremo adesso nel dettaglio sia il fuzz che anche il reverb come funzionano le caratteristiche che hanno e poi sentiremo un po di suoni a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.